E' un sogno bellissimo, ma poi ho capito molto bene. Lei era mio nonno. Eh, ecco. Pronto? Mamma, non ha male come? Una cosa abbastanza grave. Oh, buongiorno signore. Ma non niente, sai, sono un abbassamento di pressione. Tu mi telefoni sempre, non è possibile. Tu sei il mio problema principale, mamma. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Grazie. Un vecchio motore abbandonato per anni arrugginito. Ci vuole tempo, poi, per chi possa cominciare a battere, capito? Basta, ricordi, basta passato. Più per anni. Mi sono chiesto perché non hai sposato Valeria. Perché sei un idea. Mi chi? Mi chi? Mi chi? Eh? La gamba mi. Dai Gianni, dai! Ma devi lasciarmi così! Mamma, ma che vuoi a quest'ora? Che c'è? 37 e 2, non è in febbre. Dai Gianni, dai! Ups! F pleasantare! Ciao, ciao!